Francesco Guccini Con Francesco Guccini torniamo allo Staria delle Dame Il 3 novembre uscirà allo Staria delle Dame, Universal Music, una raccolta di concerti di Francesco Guccini mai pubblicati prima d'ora, registrati nei primi anni Ottanta nell'Osteria Bolognese. . Da venerdì 13 ottobre, lo Staria delle Dame è disponibile in pre-order al seguente link, htps, barra barra udsc.lnk.tu barra Guccini Dame. . Lo Staria delle Dame è un progetto discografico che nasce dal ritrovamento dei nastri con le registrazioni di tre concerti acustici di Guccini all'Osteria delle Dame di Bologna, il locale fondato da Francesco assieme a padre Michele Casali nel 1970. Un tassello della storia del cantautore che si aggiunge alla geografia gucciniana della Bologna degli anni Settanta e Ottanta. . Il trasferimento diretto dai nastri magnetici ha mantenuto inalterata l'atmosfera dei concerti, che si svolgevano in modo del tutto informale in un ambiente goliardico e creativo tra le risate e gli applausi del pubblico e degli stessi protagonisti. Così gli ascoltatori potranno rivivere quell'irripetibile momento in modo genuino, . 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 1985. CD 1, Cirocco, intro, Canzone per un'amica, intro, Autogrill, intro, Auschwitz, intro, Argentina, intro, Il vecchio e il bambino e Bisanzio. CD 2, intro, Adonni Canor Paredes, intro, Il pensionato, intro, I fichi, intro, Signora Bovari, Bologna, Venezia, intro, Chacarera del 55, intro, Io qui ero un caballo negro, Canzone quasi d'amore, intro, Un altro giorno è andato e ringraziamenti. Il 13 settembre è uscito per Giunti editore Tempo da Elfi, il nuovo romanzo giallo di Francesco Guccini e Loriano Macchiavelli.